Come è stato un saluto a tutti ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare numerosi, a lasciare un like e a iscrivervi da questa parte. Allora, un aggiornamento da casa Milan, diciamo così, che al momento passeranno le feste evidentemente, dopo le feste potrebbe esserci qualche cambiamento nello staff di Pioli. Quindi forse finalmente il Milan non sta con le mani in mano, almeno a livello di quello che trasmette a fuori, al mondo che sta fuori, e di fronte a una situazione che ha portato all'infortunio a 4 tendine, a più di 30 infortuni in generale, a 21 giocatori che si sono fatti male, forse finalmente interviene e va a provare a cambiare qualcosa. Potrebbero esserci delle figure nuove, separato nei giorni scorsi del responsabile della federazione olandese del preparatore, appunto responsabile, che fa costo del lavoro da 40 anni, dall'83, e vedremo poi se Pioli, messo di fronte a una scelta, sarà d'accordo, difenderà il suo staff a costo magari di finire anche lui nel calderone. Quindi questa è una news molto importante. La seconda news riguarda Mattia Popovic, perché rispetto all'interesse del City dei giorni scorsi, in questo momento il Milan è abbastanza tranquillo, nel senso che ha l'accordo col giocatore e sta al Milan a decidere se prenderlo, se esercitare questo accordo, oppure no, giocatore che farà 18 anni tra due settimane e che a fine mese si svincola. Il problema è che è extracomunitario, quindi potrebbe essere lo slot occupato che potrebbe essere occupato da qualcun altro, ma al momento sembra che il Milan sia più propenso a acquistare, o meglio, a prelevare a parametro zero dal Partizan, Mattia Popovic, giocatore attaccante che ha fatto quest'anno 21 gol e 25 partite, più 5 assist con la sua squadra, il Partizan Hunter 19. Ditemi di tutto di quel cambiamento che dovrebbe prospettarsi, usiamo però il condizionale perché vediamo che alla fine vanno avanti sempre e rimane tutto uguale. Vediamo questa volta se è la volta buona. Commentate numerosi, lasciate un like, iscrivetevi qui numerosissimi e ancora buone feste. Un saluto a tutti voi e ai vostri cari.